Si accomodi, per cortesia vuole ripetere solo il suo nome e cognome. Mario Mori. Lei ricorda che è già stato sentito dalla Corte, ha letto la dichiarazione di impegno, quindi è sempre vincolato da questo impegno assunto, può rispondere alle domande del pubblico ministero. Generale Mori, io ho bisogno di porre delle domande per ottenere da lei una illustrazione di una certa vicenda, per introdurre la quale però le debbo porre il quesito, diciamo in termini canonici. Quindi il quesito è, se sia vero, che anche lei personalmente, nella seconda metà del 1992, ha, dopo una formula volutamente generica, avuto contatti con una persona che più esattamente identifica l'ex sindaco di Palermo, Vito Sancimino. Io lo confermo. Allora, la circostanza dalla quale muoviamo è un fatto reale. Ecco, detto questo, io ho bisogno di una illustrazione puntuale, nei limiti dei suoi ricordi, in proposito, sulla, chiamiamola pure genesi, di questa presa di contatti, sulla finalità alla quale questa iniziativa era ispirata, sulla evoluzione e l'eventuale conclusione con relativa causale della vicenda stessa. Proprio scolasticamente direi il problema, io lo pongo così e non credo, salvo che non ce ne sia particolare necessità, che io la debba interrompere con domande su un punto o sull'altro. Le chiedo semplicemente, nel limite possibile, di puntualizzare, senz'altro, le cadenze e la tempistica di questa vicenda. Va bene. Allora, bisogna rifarsi al periodo tarda-primavera-estate 1992. Ma a fine maggio, mi sembra 24, 25, non ricordo bene, c'è la strada dei capaci. E c'è questo shock che colpisce tutti, ma colpisce anche noi, investigatori, perché ci dimostra la nostra impotenza di fronte a un fenomeno che non riusciamo a penetrare e a contrastare efficacemente. Questo, ovviamente, questa vicenda poi continua, si sviluppa e si arriva anche al 19 di luglio, quando viene ucciso Paolo Borsellino con la sua scorta. E io vorrei ricordare, perché sono pochi anni, ma sembra che sia passata una vita, anche perché la situazione è totalmente cambiata, vorrei ricordare tutti, in quest'ora penso non lo ricordino, il volto del dottor Caponnetto, che è una richiesta di un giornalista di Cessinita, e c'era dello scoramento, proprio la desolazione del volto. Molta gente, se non ha parole, certo, dentro di sé si è anche arresa in quel periodo. Anche persone dello Stato, nel senso che ritenevano inutile combattere contro un fenomeno indebellabile, ho sentito dire questa parola, insito in una determinata zona del territorio italiano, connaturata ad essa e quindi indebellabile. E allora io, che in quei giorni ero stato, ero capo del reparto CO del ROS, e poi fui nominato, vice comandante del ROS, responsabile operativo, quindi di tutte le operazioni del ROS, ritendi che era un impegno morale, oltre che professionale, fare qualcosa di più, di diverso, per venire a capo, nelle mie possibilità, di queste vicende, di questa struttura che stava distruggendo i migliori uomini dello Stato. Per venire al dunque, per sintetizzare, furono due i grossi filoni di impegno operativo che io definì. Il primo è quello di costituire un gruppo speciale di operatori che sono a base di alcune informazioni confidenziali, che ci erano state fornite dal maresciallo Antonino Lombardo, poi morto suicida. Ci consentivano di avere degli spunti investigativi per iniziare la ricerca, su basi concrete, del capo di Cosa Nostra, Salvatore Vila. E questo fu un gruppo che, costituito, scese a Palermo nel settembre del 92, e cominciò la ricerca, che poi ebbe esito positivo, ai primi giorni dell'anno seguente. L'altro tipo di impegno che ha assunto, fu quello un pochettino più generico, di ricercare, a livello adeguato, fonti, spunti, notizie, che ci potessero portare decisamente, proficuamente, all'interno della struttura mafiosa. In questo ambito, in questo contesto di iniziativa, mi si presentò il capitano De Donno, che da me dipendeva, capitano Giuseppe De Donno, e mi propose un'iniziativa, facendo riferimento a un'indagine che, quando io comandavo il gruppo di Palermo, e lui era al nucleo operativo del gruppo di Palermo, facemmo su Vito Ciancimino, e che riguardava la manutenzione strade e edifici scolastici della città di Palermo, per la quale, al termine dell'indagine, il GIP inizia l'ordinanza di custodia clotelare verso un certo numero di persone, tra cui Vito Ciancimino, per l'associazione per delinquere semplice, abuso d'ufficio, falso e l'altro, e per la quale mi sembra che, al termine della vicenda giudiziaria, Ciancimino stia scontando definitivamente otto anni. De Donno, sfruttando questo, quindi la conoscenza del soggetto, e che durante le fasi del dibattimento di primo grado, che lui aveva seguito, aveva conosciuto, e aveva familiarizzato in un certo maniera, col figlio di Ciancimino, mi propose di tentare un avvicinamento, tramite il figlio, Massimo, con Vito Ciancimino, che in quel momento era libero, ed era desiderato a Roma. L'autorizzai a procedere a questo tentativo, ancorché fossi molto scettico sulle possibilità effettive. questo avviene, questo primo contatto, che poi sono più di uno, tra De Donno e Massimo Ciancimino, avviene tra Capaci e Via D'Amelio, quindi diciamo nel giugno del 92. Vito Ciancimino, sollecitato dal figlio, accetta. E ci sono una serie di colloqui che quindi partono, adesso De Donno può essere più preciso, non so quando è il primo, comunque partono nel giugno, e si sviluppano tra giugno e luglio, a cavallo anche del secondo fatto grave, cioè Via D'Amelio. Ciancimino accetta il colloquio, insomma anche se è un po' incuriosito di questo capitano che mi sta girando intorno. Accetta il colloquio e fa una strana proposta quando entra poi in confidenza con questo capitano. loro parlano di Tangentopoli, parlano delle inchieste che l'hanno visto coinvolto come protagonista Ciancimino e come investigatore lo stesso De Donno e gli butta lì Ciancimino e dice io potrei essere utile perché inserito nel muro di Tangentopoli sarei una mina vagante che potrebbe completamente illustrare tutto il mondo e tutto quello che avviene. Questo fatto qua fa convincere De Donno del fatto che Ciancimino dimostrava delle aperture per cui mi chiede se ero disponibile a incontrarlo anche per avere il conforto di un altro parere e di un'altra persona nel dialogo. Accetto, ripeto con imperplessità e qualche scetticismo, De Donno fa la proposta Ciancimino e Ciancimino accerta. Incontro per la prima volta Vito Ciancimino a casa sua a via di Villa Massimo che è dietro a Piazza di Spagna a Roma il 5 agosto, nel pomeriggio del 5 agosto del 92. Vorrei fare un punto perché se no non si capiscono le cose. Non siamo nel 98, il 5 agosto del 92 l'Italia era quasi in ginocchio perché erano morti due milioni magistrati nella lotta alla criminalità mafiosa, non riuscivamo a fare nulla dal punto di vista investigativo ed eravamo allo sbando da questo punto di vista. 5 anni sembrano pochi, ma sono solo 5 anni che sono passati eppure è cambiato completamente tutto. Quindi quando inizio il discorso con Ciancimino cominciamo sulle generali e il primo incontro non è altro che delle considerazioni di carattere generali su persone fatti di Palermo io ho comandato il gruppo carabinieri per 4 anni a Palermo Ciancimino è palermitano sono sindaco di quella città. Ricordo che parlamo a Mo perché lui mi chiese chi ero, dove ero, come mi collocavo, che funzioni avevo, chi erano i miei superiori e gli accendai che il mio superiori diretto era il generale Sobrani al che lui si ricordò ma che è il maggiore che era al nucleo investigativo di Palermo sì il maggiore e commentammo questo e io poi tornando in ufficio e accennando al generale Sobrani di questo incontro e contatto che avevo intrapreso con Vito Ciancimino gli ricordavo ha parlato anche bene di te quindi ti considero un ottimo investigatore il primo quindi quello fu il primo incontro ripeto un interrogatorio senza nulla di particolare non siamo entrati in nessuna specifica di servizio il secondo incontro avviene il 29 di agosto quindi nello stesso mese a fine mese e ovviamente cosa ci ripromettevamo almeno cosa mi ripromettevo io dal contatto con Ciancimino avere intanto se possibile se lui si dichiarava disponibile io contavo molto sul fatto che la sua posizione dal punto di vista giudiziario non era brillantissima lui prima o dopo e lo sapeva a parte che non aveva c'era il ritiro del passaporto altri provvedimenti e misure adottate a questi confronti lui sapeva che prima o dopo doveva rientrare in carcere cosa che poi avvenne a fine anno con un provvedimento della corte di assise di Palermo e quindi diciamo tra virgolette era in qualche modo ricattabile insomma noi speravamo che questo gli lo inducesse a qualche apertura in che ci desse qualche input in effetti poi quando fa quella proposta un po' strana un po' singolare alle donne dice ma io potrei fare l'infiltrato inserirmi nel mondo degli appalti dell'imprenditoria sfruttammo noi questo input che lui ci diede e in quel momento io cominciavo a parlare con lui e diceva signor Celsimino ma cos'è questa storia ormai c'è muro contro muro da una parte c'è Cosa Rossa dall'altra parte c'è lo Stato ma non si può parlare con questa gente la buttai lì convinto che lui dice cosa vuole da me il colonnello invece dice ma sì si può si potrebbe io sono in condizione di farlo e allora restammo dice allora provi e finì così il secondo incontro per sintesi ovviamente il terzo incontro avviene se non sbaglio il primo ottobre dello stesso anno 92 Giancimino l'incontro avveniva fissato in questo modo Giancimino lo diceva al figlio il figlio chiamava telefonicamente le donne e poi si trovava sempre a casa sua in questo terzo incontro dice io ho preso contatto tramite intermediario che non disse mai chi era l'intermediario lo ammise solo in sede di escursione da parte del magistrato di Palermo quando seppe che il dottor Cina che era il medico di Rina era stato arrestato e si capì lo disse che era lui l'intermediario allora dice io ho preso contatto tramite intermediario con questi signori qua ma loro sono scettici perché voi dice che volete che rappresentate noi non rappresentavamo nulla se no gli ufficiali polizieri c'era che eravamo che cercavano di arrivare alla cattura di qualche abitante come minimo ma certo non gli potevo dire che rappresentavo solo me stesso oppure gli potevo dire beh signor Giancimino lei si penta collabori che vedrà che la aiutiamo lei non si preoccupi lei va davanti lui capì a modo suo fece finta di capire comunque andò avanti e restammo d'accordo che volevo sviluppare questa trattativa primo ottobre 18 ottobre quarto incontro Ciancimino con mia somma sorpresa perché fino a quel momento anche con tutte le affermazioni che ho preso contatto non ci credevo mi disse guardi che le accettano la trattativa le precondizioni sono che l'intermediario sono io Giancimino e che la trattativa si svolga all'estero voi che offrite in cambio a questo punto capì che non c'era più nulla da fare cioè non si poteva più allungare il brodo per il semplice fatto che io sapevo benissimo che Ciancimino aveva il passaporto ritirato e che con questa manovra della trattativa svolta all'estero che poi era un escamotage molto modesto perché si poteva fare a Frascati o a Cantù o a Roma via di Villa Medici lui voleva uscire e mettersi in condizioni di sicurezza almeno questo ho pensato l'io peraltro non avevo nulla da offrire io perché loro mi hanno detto cosa offriteci e allora a questo punto disse beh noi offriamo questo i vari Riina Provenzano e Soci si costituiscono e lo Stato tratterà bene loro e le loro famiglie a questo punto Ciancimino si imbezzia liberamente mi ricorda la saluta batte le mani sulle ginocche balzò in piedi e dice lei mi vuole morto anzi vuole morire anche lei dice io questo discorso non lo posso fare a nessuno e quindi rimaniamo che la trattativa ha un momento di ripensamento e poi vediamo come va troveremo un sistema per chiuderla senza ulteriori consulvenze molto seccamente mi accompagnò alla porta insieme al capitano De Donno che assisteva a tutti questi quattro collochi che ho fatto e ci salutò scendendo le scale mi ricordo che De Donno disse beh andate a male con l'ora e io feci ma non è andata male perché intanto abbiamo raggiunto un punto che questo qui veramente ha preso il contatto perché se no questo tipo di reazione e questa paura che ha dimostrato di avere non ci sarebbe stata primo secondo la sua posizione giudiziaria è tale che prima o dopo dovrà tornare a contattarci era il 18 di ottobre fu facile profeta ma era abbastanza logico che ciò avvenisse penso a fine di ottobre fino a di novembre il figlio di Ciancimino Massimo contattò nuovamente De Donno e gli chiese se voleva incontrare il padre da solo perché probabilmente era più facile il dialogo tra Ciancimino e De Donno De Donno è più espansivo e estroverso di me quindi si trovava meglio Ciancimino De Donno ovviamente me lo disse mi chiese l'autorizzazione e io l'autorizzai non mi ricordo ma De Donno se lo ricorderà il giorno in cui poi avvenne questo ma in estrema sintesi poi mi riferì De Donno che Ciancimino disse vabbè ma che cosa volete voi e noi eravamo già preparati a questa risposta a questa domanda e De Donno gli rispose noi vogliamo Tatorina a catturare Tatorina lui accettò e chiese preliminarmente a De Donno una serie di mappe se non errato relativa all'acqua al gas o alla luce comunque due o tre servizi relativi alla città di Palermo in un settore ben preciso viale della regione siciliana verso Monreale quella che chi conosce Palermo dovrebbe essere la zona in mezzo a Monreale grossomore quindi mappe non carte e De Donno si attivò per procurarsene presso il comune di Palermo il giorno 19 il giorno 18 di dicembre un giorno prima dell'arresto di Vito Ciancimino De Donno torna a a casa di Ciancimino e gli porta quello che aveva potuto recuperare Ciancimino non resta soddisfatto e dice no ma io vorrei gli dare delle indicazioni più dettagliate più precise su come su quello che voleva in pratica De Donno ritorna in ufficio mi dice ma e mi racconta quelle che erano state i contenuti che erano stati i contenuti dell'incontro e mi dice ma intorno lì a Villa Medici a Via di Medici c'è strada gente dice o poliziotto e carabinieri erano intorno perché noi ci capiamo al fiuto insomma e di fatto lì domani mattina viene arrestato il Ciancimino io pensavo che fosse finito il nostro rapporto ma subito dopo le feste di Natale non le so dire con esattezza perché non ho traccia neanche nella mia agenda se prima o dopo l'arresto di Via ma penso prima qualche giorno pochi giorni prima mi chiamò l'avvocato di Vito Ciancimino l'avvocato Giorgio Ghiro e mi disse che il suo cliente mi voleva parlare a me io dissi all'avvocato che non aveva nessuna difficoltà però erano cambiati tutti i termini del nostro rapporto contattai il dottor Caselli che nel frattempo era divenuto procuratore della Repubblica a Palermo gli raccontai tutta la vicenda lui fu molto interessato e ovviamente autorizzò il colloquio investigativo da parte mia e da parte del capitano dell'Ono colloquio investigativo che avvenne il giorno 22 di gennaio di quell'anno nella mattinata Arabibbia nuovo complesso e Ciancimino esternò la sua volontà di continuare il rapporto io spiegai al Ciancimino che i termini erano completamente cambiati non potevano più assolutamente parlare della sede di una collaborazione informale ma lui doveva collaborare formalmente e lui alla fine disse che era aperto alla collaborazione formale con lo Stato per cui appena uscito da Arabibbia mi incontrai o nella tarda mattinata o nel primo pomeriggio con Giancarlo Caselli gli spiegai la posizione di Ciancimino e a proposito di Palermo si mise in condizioni di ascoltare il Ciancimino l'inizio delle escursioni del Ciancimino avviene verso la metà di febbraio ad alcune ho assistito anch'io nel contesto di queste dichiarazioni che rese ai magistrati della Procura di Palermo Giancimino fece scenda tutta la vicenda del rapporto tra di noi e lui il capitano De Donno che compilò gli atti relativi e tutti gli accertamenti connessi alle dichiarazioni di Giancimino riferì anche sui nostri rapporti la Procura di Palermo non ci ha mai chiesto alcun che su questo fatto ecco lei ricorda in generale questa vicenda di averla illustrata prima che in questa corte rassise anche ai magistrati della Procura di Firenze ricorda la data in cui è avvenuto questo esame prima di agosto mi sembra di quale anno di quale anno del 97 ecco quindi prima di questa data lei non era mai stato richiesto di illustrare questa situazione in un atto formale no dopo l'escursione fatta da lei fu io sono stato inteso sullo stesso motivo dalla Procura della Repubblica di Caltanissetto ho da chiedere qualche dettaglio a questa sua esposizione lei ha avuto la possibilità di indicare con esattezza le date in cui si sono svolti questi incontri che rappresentano un po' la porta di passaggio da una situazione non altra ecco sul fatto di poter indicare con esattezza queste date il generale si affida al suo ricordo o a qualche cosa a mia agenda ha con sé qualche cosa si ho portato la fotocopia delle pagine solo delle pagine relative ovviamente e qui leggo 5 agosto tra le 14 alle 15 dell'agenda incontro con WC cioè Vito Ciancimino sabato 29 agosto 16 ore 16 WC cioè Vito Ciancimino primo ottobre sempre di quell'anno pomeriggio colloquio con WC domenica 18 ottobre ore 11 30 WC 22 gennaio dell'anno successivo quindi siamo a 93 ore 9 incontro con WC qui a ribibbia anche se non l'ho scritto ore 14 13 13 30 14 incontro con il dottor Caselli ecco in occasione dell'altro suo esame davanti alla corte mi ricordo che forse su sollecitazione mia la corte rispose per l'acquisizione se i difensori non hanno nulla in contrario si acquisiscono nessuna opposizione parti civili allora generale quelle fotocopie le può mettere a disposizione perché la corte ha disposto per l'acquisizione al verbale ecco il primo punto era questo volevo se è possibile un chiarimento migliore sul punto che Giancimino all'epoca in cui si sono svolti questi incontri si trovava quindi a Roma nella sua abitazione sì via di ecco ma quanto la ricorda era libero a tutti gli effetti o era sottoposto a una qualche misura limitativa della della libertà personale adesso domiciliari no 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 era libero perché ci raccontava che frequentava dei locali parlava quindi era libero questi colloqui mi pare di aver colto dall'ultima parte della sua illustrazione lei li ha avuti sempre assieme al capitano De Donno vero e quindi le persone presenti a questi a questi colloqui chi sono state almeno a quei ai colloqui su quali lei ci sta riferendo sì non ricordo ma lì sull'agenda c'è pure scritto in uno di quei quattro colloqui partecipò anche Massimo ma solo per il fatto che il figlio di Ciancimino il figlio di Ciancimino ma solo per un breve momento e mentre non si parlava di cose diciamo di interesse perché Ciancimino ci voleva offrire il caffè allora entrò il figlio lo portò si intrattene qualche minuto ma solo dal punto di vista così della relazione ma non della sostanza spaziale ma l'argomento si è svolto nella sala diciamo nella sala da pranzo della casa di Vito Ciancimino tutti e quattro io ho capito che la presa di contatto iniziale da parte del del capitano De Donno si lega in qualche modo a la sua convinzione ovviamente partecipata dal suo personale di ricercare nelle sedi idonee presso i personaggi considerati idonei spunti indicazioni quali potessero essere ho capito bene ecco io vorrei capire sulla base di quale fatto nuovo se c'è stato un fatto nuovo a un certo momento il capitano De Donno si risolve a proporre a lei di avere un incontro con Ciancimino che mi permetta mi permetto di fare una piccola cosa a questa domanda per renderla più chiara per evitare poi di doverne fare una dopo perché di regola gli spunti quelli che si chiamano indicazioni a carattere fiduciario confidenziale o quant'altro di regola un ufficiale li raccoglie da sé non colgo altrimenti la ragione per la quale il capitano De Donno anziché portarsi un ufficiale pari grado o addirittura un maresciallo fa intervenire sulla scena questa è l'espressione che mi sembra sia più efficace forse non è del tutto appropriata fa anche bene sulla scena del vicecomandante del ROS capito allora guardi l'input indiretto alla vicenda a questo contatto che poi De Donno si propone di realizzare io lo do io quando parlando di queste cose dico è inutile che andiamo a cercare il solito scalza cane che ci racconta di ciccio formaggio del paese di so che posso dire di Corleone che è sospettato di qui ormai lo scontro è a livello altissimo noi dobbiamo cercare interlocutori dall'altra parte di livello altissimo quindi per favore cerchiamo di spremere le meningi su questo aperto e allora De Donno fa questo ragionamento e individua tra le sue possibilità poi dopo si può chiedere anche a lui non è che ci siamo mai spiegati su questo ma adesso vado per logica lui Ciancimino l'aveva frequentato nel senso che l'aveva investigato e lo aveva portato fino all'arresto aveva poi questa possibilità di dialogo col figlio di Ciancimino e quindi decide di sfruttarlo perché dice giustamente lei ci viene a cercare e non intanto quando inizia il rapporto io non ero vice comandante ma era comandante del reparto criminalità organizzata del ROS quindi ero il responsabile diretto di questa attività nel settore antimafia poi De Donno io lo conosco da quando era tenente che venne al nucleo operativo che era un bimbetto e io comandavo il gruppo di Palermo è stato sempre con me da allora ed è tuttora con me e c'è un rapporto che va oltre il fatto che io sono colonnello generale lui è tenente capitano c'è un rapporto di stima e di rispetto reciproco e si rendeva conto De Donno che questa non era il solito la solita fonte informativa da quattro soldi che doveva sfruttare e poi capire se era valido quello che diceva o meno Ciancimino era un personaggio e c'è anche un altro fatto fondamentale bisogna conoscere la psicologia di Ciancimino Ciancimino un personaggio di grande energia di grande determinazione e ha la convinzione penso a buon titolo per le sue vicende professionali ed extra professionali di essere un capo e lui vuol trattare solo col capo e le farò un esempio senza fare nome perché quando fu portato di fronte ai magistrati di Palermo nella prima e due circostanze lo sentì direttamente il procuratore Caselli e Ciancimino si rapportava su quel livello perché riteneva che quello fosse il piano credo di aver capito la terza volta venne un magistrato giovane e e non c'era il dottor Caselli che poveretto c'era altro da fare e gli disse ma lei chi è? dice ma io sono il tizio caro sono sostituto procuratore della Repubblica ma lei sarà un auditore io con lei non parlo e se ne andò tanto è che fu ripreso ecco questo è il personaggio dell'approccio De Dono si rese conto che aveva bisogno di avere anche un sostegno psicologico ecco il motivo anche perché ritenevo che il livello era tale che mi potevo sprecare tra virgolette e andarci un altro punto lei ha precisato generale un attimo fa qual era il suo incarico esattamente all'epoca diciamo pure nelle settimane in cui si snoda questa vicenda io proprio mi sembra i primi giorni di agosto del 92 divento vice comandante del Rosso quindi con qualche giorno di anticipo rispetto al primo incontro perché se non mi sbaglio ma penso che proprio a cavallo lì a cavallo proprio ma ne facevo già in qualche modo le funzioni perché Colomelo Cagnasso che era vice comandante era in trasferimento per la legione di Palermo lei ritenne di mettere al corrente qualcuno dei suoi superiori di questa sua iniziativa e se l'ha fatto quando prima di avviarla o successivamente o nel corso della vicenda io come un ufficiale di polizia giudiziaria mi insegna posso trattare con delle fonti quindi teoricamente potevo anche tenermela per me o lasciare che De Donno facesse la sua attività però il personaggio era particolare e soprattutto tenevo a un consiglio del generale Sobrani che era il mio superiore perché Sobrani ha fatto la parte più intensa della sua carriera professionale a Palermo ed è un allenamento riconosciuto come un investigatore di grandissimo livello un grande conoscitore di quella realtà e allora dopo il primo incontro perché fino al primo incontro era molto dubbioso sull'effettivo sviluppo che poteva avere questa vicenda dopo il primo incontro appena tornato andai da Sobrani introdusse il discorso dicendo che Vito Ciancimino aveva parlato bene di lui e poi lui così seppe di quello che era il mio intendimento lui mi consiglia di stare molto attento perché questo è un personaggio che ti può giocare tranquillamente ti può mettere sotto scopa mi ricordo presiato di questo e poi continuai quindi e poi mi informai che era finito il 18 ottobre e diceva abbiamo dovuto finire perché quello mi ha chiesto che cosa potevamo offrire e io chiedo che potevo offrire che si costituisca quindi capisco che lei non ritenne che vi fossero le ragioni i presupposti per decampare da una regola utilizzata correttamente quella secondo cui un ufficiale polizia giudiziaria che contatta una fonte lo può fare anche a titolo posti personale da non essere tenuta ad informare mi risponde solo poi in sede giudiziaria per me ecco ho capito lei lo ha illustrato con molta chiarezza che quella che possiamo chiamare la rottura di questo contatto si concretizza quando a una certa domanda di Ciancimino lei formula una certa risposta certo ecco ma lei aveva messo in preventivo fin dall'inizio di questo contatto con Ciancimino di essere richiesto da Ciancimino di quali potessero essere secondo le prospettive nell'occasione del comandello Mori sicuramente il capitano di Donno era figura a quel punto diciamo pure complementare non essenziale ecco non aveva messo in preventivo che questa domanda da parte Ciancimino poteva essere posta fin dall'inizio si anche se come ipotesi remota devo precisare perché io ritenevo che al massimo lui dicesse si cercherò di prendere contatto io infatti mi aspettavo che avrebbe detto si poi non ce l'ho fatta perché indubbiamente era un'esposizione grossa per lui dire si ho preso contatto con Cosa Nostra e allora io pensavo se lo dico dice io non ho altro che dirgli dice vabbè si costituiscano poi li tratteremo bene io pensavo invece che lui dopo un po' al quarto incontro di fatti mi dicesse guardi non è possibile non accetto nel dialogo peraltro c'erano i presupposti al terzo ma questi non si fidano voi chi siete insomma e invece facesse dell'apertura e dice vabbè ma possiamo vedere qualche altra cosa insomma io pensavo che rimanesse su un piano più basso e che lui offrisse qualche notizia magari di un certo livello più nel campo imprenditoria appalti politica che nel campo diciamo operativo diretto questo mi aspettavo le confesso che mi sorprese in un certo senso questa questa accettazione così direi totale insomma accettazione totale mi ha chiuso a capire di questa di questa specie di proposta di assumere un ruolo sostanzialmente di interlocutore a distanza di interfaccia tra due sì perché era molto rischioso per lui ecco ma non è vero io sicuramente riesco perfettamente a seguirla ma bisogna capire questo credo che sia opportuno che questo punto sia chiarito bene in quanto la ragione pratica di questa presa di contatti che ha una premessa nei contatti tra Ciancimino e De Donno all'iniziativa del capitano De Don mira tutto sommato a avere Ciancimino come fiduciario di un organismo investigativo come il nostro quindi in una in un taglio tutto sommato assimilabile a quello del confidente che avendo magari una vicenda giudiziaria in corso poseva anche in prospettiva di venire collaboratore ecco io ho bisogno di capire com'è che a un certo punto è ad iniziativa di chi sostanzialmente Ciancimino finisce per vedersi proporre il ruolo di interfaccia perché almeno librescamente altro sembrerebbe essere la figura del confidente altro sembrerebbe essere la figura dell'interfaccia tra due soggetti che non colloquiano direttamente ma guardi il problema Ciancimino non è il solito personaggio da quattro soldi cioè bisognava gestirlo sviluppando con lui un dialogo che tenesse conto anche delle sue esigenze perché non li potevano dire brutalmente senti Ciancimino la tua posizione giuridica e giudiziaria quella che è stati attento se vuoi evitare la galera ti possiamo aiutare però tu dacci perché avrebbe accompagnato la porta immediatamente perché i tempi erano diversi oggigiorno forse questo discorso brutalmente si potrebbe anche fare nel 92 non si poteva assolutamente fare e allora era uno schermaglia continua tra me e lui tra lui e De Donno in tre e cercando di cogliere è stato un bel due livello possiamo definirlo così per cercare di capire i punti in cui noi ci potevamo spingere dove lui accettava dove lui ci voleva anche portare perché tutto sommato c'ha l'intelligenza per gestire qualche dono quindi inizialmente il problema era solo diciamo ci darà qualche notizia se ci va bene se no ci accompagna la porta e finisce lì poi il fatto che lui si presenta come addirittura disponibile a inserirsi in un gioco sotto copertura quasi nell'ambito dell'attività contro l'imprenditoria mafiosa il fatto che dovevamo in qualche modo allungare il brodo io che gli potevo dire brutalmente solo quello gli potevo dire ho detto ma lei li conosce questa gente sapevo benissimo che li conosceva centimila di Corleone e quindi è stato quasi portato dal discorso un andare insieme verso quel perché a noi ci conveniva guadagnavamo tempo io e De Donno con De Donno questo non ho mai pensato ma io ero anche orientato eventualmente se lui come ritenevo avesse portato a lungo la trattativa di fare dei servizi di dipedinamento sul Ciancimino per vedere effettivamente come contattava chi contattava e se contattava questo poi non è avvenuto perché ha bruciato i tempi Ciancimino non so se sono riuscito ha bruciato i tempi io credo di capire rispetto a me rispetto alle mie previsioni ha bruciato i tempi nel momento in cui ha detto colonello lei che mette esatto io non me l'aspettavo proprio in quel momento non me l'aspettavo in occasione dell'incontro in cui Ciancimino comunica le cosiddette precondizioni mi pare lei abbia fatto questo termine allora questa trattativa da farsi all'estero con Ciancimino in veste di intermediario o qualcosa di simile per caso fu richiamato anche il fatto specifico che Ciancimino aveva qualche problema in corso con la giustizia no noi ne parlammo mi sembra la prima o la seconda volta che lui aveva dei problemi ma era notorio insomma che avesse dei problemi no facevo per capire se questa no lui direttamente se i problemi di Ciancimino facevano parte del pacchetto delle precondizioni lo pensai io subito quando lui mi disse che bisognava farlo all'estero io disse ma come dentro di me dici che tu non c'è il passaporto allora cosa vuoi da me il passaporto questo lo pensai subito è tutto qui generale non credo una domanda sola però nel corso di questi incontri a me pare di ricordare è un eufemismo in realtà sono certo nel corso di questi incontri si verificò un grave fatto di sangue a Palermo perché si verificò l'eliminazione di Ignazio Salvo che è del settembre il 92 quindi proprio in epoca mediana tra gli incontri dell'agosto e gli incontri dell'ottobre lei ha ricordo in generale che in queste panoramiche che a quello che capisco allargavano e stringevano continuamente l'obiettivo su Cosa Nostra e l'universo mondo di Cosa Nostra vi sia stata una qualche considerazione da parte di Ciancimino in ordine a quel fatto e se quel fatto era rappresentativo di e se a seguito di quel fatto si poteva pensare che ecco guardi volete il tuo chiarimento specificamente come ha detto lei in effetti nel corso di questi colloqui ovviamente c'erano parecchie digressioni poi Ciancimino è un vulcano quando parla fa citazioni per riferimenti quasi tutti di tipo politico poi lui in quel periodo lì aveva ultimato e stava correggendo le bozze di un libro che faceva un po' la storia dei suoi anni a Palermo e c'aveva la bozza che mi ricordo poi dette a me e voleva assolutamente che la leggessi anzi forse il terzo incontro mi fece pure il cicchetto perché non l'avevo ancora letto poi cicchettò anche il dottor Caselli perché gli ho detto anche a lui questa bozza e ovviamente Caselli c'era altra a cui pensare non volesse e quindi c'erano vari capitoli si riferiva a Orlando a Gioia a tutti i personaggi i protagonisti delle vicende palermitane però un ricordo preciso specifico su Salvo e sulla vicenda dell'omicidio non ce l'ho non mi dice nulla un ultimo punto lei ha illustrato proprio il contenuto dell'ultimo incontro quello nell'abitazione non sto parlando del colloquio investigativo l'ultimo incontro nell'abitazione e mi è parso di capire che il discorso si è anche bruscamente interrotto sulla 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 linea di partenza lei ha avuto la possibilità di capire se Giancimino si accingesse o fosse nella possibilità di farsi da portavoce sul momento di richieste che venivano dal da cosa nostra quindi dai soggetti con i quali in qualche modo aveva stabilito quel certo contatto di cui si parlava prima intendo dire se Giancimino era in grado di illustrare le controproposte e comunque la contropartita a a quelle che aspettava fossero indicate da lei come basi o punti di partenza di una trattativa in quel momento quando lui scattò in piedi mi disse lei mi vuole morto anzi vuole morire anche lei ebbi la sensazione precisa che era in grado di fare una trattativa di porsi come intermediario prima no prima ritenevo che mi lantasse o comunque cercasse di giocarmi di portarmi dove voleva lui ma in quel momento vedi che veramente aveva paura cioè che si preoccupava però a quanto intendo è una conseguenza che lei formulò una conclusione che lei formulò sul momento è una connotazione mia del momento e che lui non esplicitò in maniera volevo sapere questo se c'era stata un'esplicitazione anche ebbi poi una conferma in sede di escursione da parte dei magistrati di Palermo quando venne fuori il nome di Cina che lui sobalzò e allora si capì che l'intermediario con la controparte era proprio questo Cina e gli veniva a mancare l'unico riferimento tanto generale lei sarà sicuramente al corrente del fatto che anche in pubblica audienza come è quella della Corte d'Assise di Firenze si è parlato di una certa qual definita trattativa trattativa con papello o trattativa del papello a seconda delle due scuole di pensiero che avrebbe in qualche modo fatto riferimento o per meglio dire che in qualche modo è riferibile alle iniziative di Cosa Nostra e più specificamente di Rina da collocarsi come fatto storico anche questo nell'anno 92 e nella seconda metà del 1992 ora prescindendo dalla vicenda che lei ha illustrato e guardando neutramente a questa riferita storia di una trattativa e di un papello lei al di là del racconto di stamani è in grado e a prescindere per essere più usati dal racconto di stamani è in grado di fornire una qualche indicazione in questa sede o non le costa altro ripeto con riferimento a quel periodo storico no nient'altro mi rendo conto che quella trattativa tra noi e Ciancimino possa avere sollecitato dall'altra parte qualche valutazione qualche considerazione anche qualche analisi ma io a parte quello che ho detto non so nient'altro e l'ultima domanda proprio è questa quando lei è stata esaminata davanti alla corte qualche mese fa ha illustrato tutta una distinta storia che diciamo pure riguarda certi contatti come le ricorda intrattenuti dal maresciallo Tempesta che gliene venne a riferire in occasione di un certo incontro mi pare che le date le epoche tendono quasi a sovrapporsi perché l'incontro con maresciallo Tempesta lei ce lo collocò con esattezza il 25 di agosto 1992 allora il punto è questo nella gestione del rapporto con del contatto con Ciancimino fu tenuta presente come elemento in qualche modo dipendente o collegato fu tenuta presente da lei nella gestione di questi contatti di questa singolare situazione che le aveva rappresentato il maresciallo Tempesta oppure no non attendi in alcuna considerazione mi sembra di aver già detto nella precedente testimonianza che riteremo il contatto con Bellini da parte di mia o di elemento dell'os pericoloso perché Bellini se avesse preso contatto effettivamente con Cosa Nostra sarebbe stato immediatamente scoperto perché come mandato dalle forze di polizia o da altri per cui era assolutamente improponibile un tipo di rapporto tra noi con l'unico quindi non lo collegai affatto lo considerai subito un fatto che non mi doveva interessare che per me era pericoloso pericoloso nel senso che tu poteva portare il nostro reparto fuori strada ma considerava che fosse pericoloso anche per Bellini a limite sì se prendeva contatto con quei personaggi se cioè avesse ottenuto come lui mi sembra di ricordare voleva gli arresti domiciliari ospedalieri di Ciccio Madunia di Luciano Leggio di Gambino e di qualche altro e chi era l'autorità in Italia che poteva ottenere questo Bellini non diceva quindi Bellini moriva a mio avviso questa era la mia volontà questa è la votazione che lei formulava all'epoca certo è questa la spiegazione per non le colleghi neanche proprio dal punto di vista del ragionamento posso dire forse sarà stata la mia la cuna ma proprio li tendi completamente separati i due fatti ho capito la ringrazio dei parti civili hanno domande avvocato ammannato difensore di parte civile quindi generale proprio per graficamente proprio cronologicamente il primo contatto l'hai spiegato fra De Donno e Ciancimino la figura di questo Ciancimino quale doveva essere si è infiltrato nel mondo della imprenditoria per sintetizzare quello si offrì lui a infiltrarsi De Donno andò a contattare Ciancimino per vedere e capire e di avere qualche notizia qualche informazione qualche spunto di tipo investigativo e fece una serie di due o tre contatti comunque De Donno è qua potrà essere intesa riguardo e in quel contesto che fu Ciancimino a offrirsi come diciamo così testa di ponte in questo ambiente aprò dell'attività investigativa qui diciamo la prima fase si presenta come testa di ponte ha detto poi veniamo agli incontri che ebbe a tre lei con De Donno e con Ciancimino mi pare che il 29 agosto del 92 lei ebbe a dire la famosa frase perché muro contro muro non si potrebbe appunto parlare e lui dice io posso non ho capito e Ciancimino afferma io posso cioè lo posso fare sì ecco quindi a questo momento del 29 agosto 92 diciamo la veste per voi di Ciancimino diventa un intermediario no non necessariamente diventa uno che noi stiamo contattando tutte queste fasi successivi intermediari le possiamo fare adesso a distanza di cinque anni allora era uno che parlava con noi avvocato e noi volevamo sapere più notizie possibile in estrema sintesi valutarle vagliarle vedere quelle che ci interessavano e quelle che no sapevamo che era un gioco particolare perché dall'altra parte c'era una testa lucidissima quanto è più di noi e quindi sapevamo che era un gioco sempre sul filo del rasoio certo ma per capire la corte nel senso nell'interrogatorio appunto nell'esame del primo agosto del 93 avanti al PM quando appunto parlava di questa frase c'era un muro contro muro mi ricordo che usavo questa espressione un muro contro muro e gli dicevo lei è un personaggio lei è nata a Corleone lei ha tutta una sua storia insomma ma non può lei avere un tramite per arrivare a questi personaggi per vedere di parlare avere un dialogo una trattativa e lui disse io posso ecco quindi diciamo quindi se ho capito bene ma per capire la corte cambia diciamo la veste di Ciancimino da colui che si era autoproposto come testa di ponte e diciamo a questo punto lui vede chiaramente questa trattativa anche perché sempre su questo incontro il secondo questo sempre della frase muro contro muro e quindi il dialogo alla trattativa lei è da chiarire appunto davanti al pubblico ministero qual era il vostro progetto cioè pagina 33 dice Ciancimino si offerte di fare l'intermediario le leggo proprio fare l'intermediario cosa significava che lui aveva bisogno di noi in qualche modo cioè non era in una posizione forte veniva in qualche modo a patti può darsi che avesse qualche debolezza qualche defaianza ma io vorrei sapere se hai stato facendo delle domande o delle contestazioni la domanda no 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 ricordavo quanto aveva già detto per fargli appunto la domanda mi scusi noi dobbiamo sempre tenere presente che siamo in un'aula dove vanno rispettate le regole questo suo richiamo a precedenti dichiarazioni del test che stiamo esaminando si può fare solo in sede di contestazione allora le dico che in questo esame parlava in questo momento siamo al 29 agosto 92 di Ciancimino come intermediari ci ha usato espressamente ma anche qui d'altra parte oggi c'è in questa fase ripeto dell'agosto del 92 voi come prospettiva era questa che lui era intermediario proprio per questo dialogo c'era il muro contro muro ecco ma domanda a lei quindi era così ho capito ben per avere chiara la corte la cronologia temporale Claudio Avvocato quello che ovviamente lei prima ha detto che ha letto chiaramente lo confermo per me Ciancimino poteva fare l'intermediario la fonte poteva portarci qualche luna in macchina e ce lo faceva arrestare per me non cambiava nulla io volevo sfruttarlo tra virgolette come ufficiale di Polizia Giudiziaria che cercava di guadagnare qualche punto rispetto alla conoscenza del fenomeno cosa nostra poi cosa fosse Ciancimino le parole non contano nulla in quella sede lì perché è un rapporto tra due persone che cercano di guadagnare qualche cosa di più rispetto all'altro usiamo l'intermediario sia intermediario a me interessava sapere qualche cosa prendere qualche d'uno e metterlo in galera sintesi estrema del discorso ma la domanda appunto era questa a quel momento del 29 agosto 92 si rappresentò che anche Ciancimino e l'altra parte potesse fare la stessa valutazione ma io non so cosa valutava l'altra parte non mi interessava che ci fosse una debolezza una defaianza per cui si apriva una trattativa questo è il punto fondamentale se può chiarirlo alla corte ma io forse se il presidente non riesca a capire non la capisco neanche io mi dispiace sono confuso e cercherò di chiarire se lei ha valutato positivamente lei e De Donno valutaste positivamente questa proposta di Ciancimino al 29 agosto 92 perché disse io posso fare l'intermediano o l'interfaccia e la valutaste positivamente perché da parte di Ciancimino dimostrava una debolezza o defaianza posso interrompere così forse noi la valutammo positivamente per il semplice fatto che ci consentiva di andare avanti nel diario è solo per questo generale ho capito perfettamente ho capito perfettamente i suoi intenti chiaramente ottimi per servire la nazione su questo non c'è dubbio le sto dicendo vi rappresentaste che anche Ciancimino e la persona con cui parlava poteva prendere questo vostro andare lì a casa di Ciancimino come un segno di debolezza defaianza e uno scendere a patto ah in quel momento in quel momento 29 agosto 92 ma io non mi ponevo e la persona con cui parlava poteva prendere questo vostro andare lì a casa di Ciancimino come un segno di debolezza defaianza e uno scendere a patto ah in quel momento in quel momento 29 agosto 92 ma io non mi ponevo nella testa di Ciancimino perché non mi interessava quello che pensava Ciancimino sotto questo aspetto non mi interessava di capire dove potevo portarlo io ai miei fini ecco poi siamo al quarto incontro che c'è questa frase diciamo si rompe questa più intermediaria ah ma lei mi vuole morto vuole morire anche lei poi se ho capito bene riprendono i contatti da parte del figlio Massimo Ciancimino e a questo punto Ciancimino si presenta a voi come diciamo a fonte come quindi confidente di PG quando chiede le carte le mappe di Palermo diciamo così no per capire e poi infine c'è quel quarto passaggio chiamiamolo il 22 gennaio del 93 a Re Bibbia in cui Ciancimino a Leli dice quando Leli fa presente la situazione deve collaborare formalmente ovvero diventare collaboratore di giustizia ecco così per avere chiaro ecco successivamente a quando lui venne collaboratore di giustizia mi pare era il 22 gennaio del 93 e Leli lo riferì subito immediatamente al procuratore capo della Repubblica io riferì prima del prologo sì a elaborizzazione però da quanto a meno risulta questi interrogatori cominciano con Ciancimino nel marzo del 93 marzo febbraio sì marzo mi pare che mi pare sia il 17 marzo cioè passano mi pare dal 22 gennaio siamo circa quasi due mesi come mai questo periodo abbastanza lungo di fronte a un Ciancimino che si perde non lo deve chiedere a me ma lo deve chiedere al procuratore di Palermo io riferì ad oras perché incontrai Ciancimino il 22 gennaio nella mattinata verso le 9 9 e mezza all'1 e mezza già riferivo i contenuti al dottor Caselli informalmente con dialogo diretto ma insomma in quel periodo c'era stata la cattura di Vina c'era una serie di attività investigative insomma Ciancimino stava lì era già dentro si poteva aspettare magari qualche giorno come si è aspettato già allora non attribuì nessuna non era un ritardo per me ecco grazie ci sono altre domande Avvocato Rigotti domande due soli chiarimenti quello che io vorrei cercare di capire in questo senso le chiedo uno sforzo signor Gireale che tipo di discorso potrei arrivare a cosa nostra quindi indipendentemente non ho capito che tipo di discorso che tipo di discorso potrei arrivare a cosa nostra a seguito di questi di questi contatti vedere dall'altra parte cosa si si riuscì a capire lei poc'anzi mi pare che abbia detto che Ciancimino manifestò perplessità sulla vostra legittimazione a questo contatto e lei fece capire che dietro c'era qualche cosa sì se non si preoccupi sì ecco ma e chiaramente voi rappresentavate lo Stato certamente in senso lato sì il vostro interlocutore quindi lo sa io sono un funzionario dello Stato ma la domanda di Ciancimino di sapere esattamente cosa c'era dietro di voi e le sue risposte dicendo non chiare ma intesa a far capire che c'era qualche cosa esattamente che tipo di segnale doveva fare doveva essere raccolto da Ciancimino è riferita ai suoi interlocutori ma intanto le dico la mia la mia posizione e poi eventualmente quella che penso fosse quella di Ciancimino la mia posizione era chiara io se dice io rappresento solo il colonnero Mario Mori e Ciancimino che si considerava si considera un personaggio un capo ma vabbè allora rivederla grazie quindi avevo bisogno di di darmi una veste e una qualificazione che consentisse di sviluppare di portare avanti il dialogo quindi io senza fare affermazioni mi manda qualche dono lei non si preò sono un colonnello comando un reparto investigativo quindi e lui e lui da parte sua ritengo che voleva e capì penso anche in buona fede che rappresentavo sì un tentativo di contatto per lo meno uno sforzo per andare a vedere che cosa c'era dietro questo muro di cui avevamo parlato quindi che possa aver riferito a a sua volta l'altro intermediario che ha riferito che c'era un tentativo di approccio con la controparte può darsi benissimo un'interpretazione che lascio a Ciancimino può darsi che l'abbia fatta non mi interessava peraltro no certo lei mi pare che aveva capito che l'interlocutore di Ciancimino era dottore Rina beh lui era vago su quello avevamo capito che era il gruppo dei Corleonesi perché peraltro non poteva essere che così Ciancimino aveva un rapporto tanto proprio di nascita con Corleone ma sì il gruppo Corleonese non direttamente Rina il nome di Rina poi lo facciamo noi quando in un secondo tempo Ciancimino chiese a Redona ma che volete se non sbaglio nel secondo incontro che lei aveva Ciancimino disse i miei interlocutori sono disposti ad aprire questo discorso nel secondo disse sono scettici diceva chi era per la la richiesta di sapere cosa potesse essere dietro la sua iniziativa proveniva dal gruppo dei Corleonesi sì o perlomeno così me la rappresentò Ciancimino cioè non era Ciancimino che voleva sapere ma era il gruppo dei Corleonesi che attraverso Ciancimino faceva sapere a lei che cosa rappresentavamo chi eravamo cosa e se c'era dietro alle vostre spalle qualcosa sì perlomeno questo era la richiesta che veniva la richiesta da Ciancimino cioè Ciancimino si faceva portavoce del gruppo dei Corleonesi sì queste sono deduzioni però no queste sono le cose che leggo nelle sue sulle traduzioni nel senso che queste sono cose che Ciancimino diceva sono scettici su chi rappresenta quindi il gruppo dei Corleonesi a nome dei quali Ciancimino parlava voleva sapere qualcosa di più almeno così dice la sua figura istruzionale sicuramente elevata non era per loro sufficiente lo so penso di no insomma e lei dovette rispondere proprio per evitare che si troncasse il dialogo dicendo vagamente c'è qualcosa di più non si preoccupi di questo ma Ciancimino mi diede l'impressione che non aspettava altro di avere un'assicurazione da parte mia perché aveva tutta la convenienza anche lui di tirare avanti il discorso quindi si accontentò lei non si preoccupi che tutto sommato non lo doveva accontentare in quella fase penso comunque si accontentò cioè quindi ebbe una risposta da poter poi riferire o che lui ritenne ai suoi interrogatori che erano in gruppo con lui o che lui ritenne sufficientemente in modo da poter riferirlo senta una cosa non mi è chiara probabilmente perché una sua risposta nel corso dell'interrogatorio è stata interrotta da una domanda io non sottoforma utilizzo l'istituto della contestazione solo ai fini della sollecitazione del suo ricordo di modo se può spiegare una frase perché risulta interrotta se me lo consente il Presidente lei stava riferendo di questa pretrattativa nel senso stabilire intanto il luogo dove incontrarci per portare avanti il discorso verso incontro e poi dice esattamente i pubblici ministeri chiedono se c'era già un contenuto nella trattativa e lei risponde non ci disse che c'erano già state delle ipotesi non ho capito scusi può alzare la voce avvocato o si avvicina le risponde ne ci disse cioè Ciancimino non esplicitò il contenuto della trattativa la merce di scambio né ci disse che c'erano già state delle ipotesi ecco ce la può spiegare questa frase ma è creato in un contesto così se non mi dice tutto il discorso ecco così non riesco a seguirlo e c'è il Dottor Chalazzi chiede e quindi tantomeno io capisco Ciancimino questo è foglio 35 Ciancimino fece degli accenni su quali erano le eventuali richieste assolutamente sua risposta Dottor Chalazzi di merito per così dire sua risposta assolutamente Dottor Chalazzi non si delineò nulla sotto questo profilo sua risposta né ci disse che c'erano già state delle ipotesi non mi dice nulla questa frase penso che faccia parte del normale discorso il problema è questo Ciancimino non ci fece nessun discorso che portava noi a pensare o a dedurre che ci fosse già una base preparata da qualcuno per trattare ecco il papello non c'era ma il papello assolutamente non c'era ne ho mai sentito parlare neanche di ecco di punti che potevano essere presi in esame se forse lei a questo si riferisce argomenti da mettere sul tavolo della trattativa in questo senso assolutamente no poi un'altra un altro chiarimento a un certo punto siamo diciamo all'ultimo incontro quello della rottura anche se poi c'è una ripresa successiva quello del 16 ottobre 18 ottobre in questo incontro le ha riferito Ciancimino riferì che i suoi interlocutori cioè il gruppo coruganese era disposto ad accettare delle proposte serie accettavano la trattativa e volevano proposte serie allora lamentiamo esattamente si insomma si passò a fare diciamo proposte serie esattamente alla pagina 20 del pagina 21 cioè pagina 20 e pagina 21 Ciancimino afferma è la sua stiamo parlando dell'incontro quindi del 18 ottobre Ciancimino afferma che ha ulteriormente preso contatto e che i suoi interlocutori accettano il dialogo ponendo alcune condizioni che sono all'estero esattamente esattamente su queste basi loro erano disposti ad ascoltare proposte serie quindi questo a questo punto v'è la sua risposta la sua risposta è la nostra proposta è arrendetevi in pratica ecco la resa era l'inizio della trattativa o era il punto terminale della trattativa grazie per questa domanda perché mi permette di chiarire una volta per tutta trattativa da parte nostra non ce n'è mai stata in questo senso perché noi non rappresentavamo nessuno noi volevamo solo arrestare della gente che delinqueva quindi quando io uso questi termini diciamo loro si consegnano e noi tratteremo bene loro e le loro famiglie si consegna significa si consegnano a noi carabinieri che le arrestiamo in base a un processo verbale e finisce lì per noi poi ci sarà qualcuno altro che tratta con loro e basta perché noi trattativa con Cian Cimino con queste precondizioni mentali non c'era la trattativa nostra con Cian Cimino era solo per vedere di sapere qualcosa di più di cosa nostra e arrestare questa gente e basta è quella di interrompere la strategia stragista certo certo cioè perché lo scenario che avevate davanti ma non sono la base di trattativa ma le considerazioni non ci riguarda almeno ora io allora proprio per sollecitare il suo ricordo leggo una sua risposta contenuta proprio su questo punto alla pagina 21 a questo punto dice lei capì anche che non potevo tirarla molto a lungo la cosa perché ormai lui aveva buttato giù le carte e noi che cosa potevamo fare allora lui mi chiese ma voi allora siete disposti ma qual è la base di partenza vostra qui gli dissi la base di partenza nostra è che Reina e quanti altri si arrendono e noi tratteremo bene i familiari cioè sembra quasi che la risposta che le diede a Ciancimino era che la base di partenza era l'arresto di dottorina e di quanti altri Avvocato se lei mi parla di fiaschi io non posso rispondere con le patate se lui parla se la base di partenza vostra qual è io devo perseguire il discorso che fa lui la nostra base di partenza è che quello si costituisca si arrenda se lui usava un altro termine qual è la vostra base di partenza che Reina venga in casa allora quando Reina sarà in caserma noi lo arrestiamo cioè era un seguire discorso non partire da presupposti che noi non avevamo questo è il consenso se questo è la anche a livello di strumentalizzazione di una situazione no questo è un fatto intendere a Ciancimino che potesse esserci una base di partenza di un discorso rappresentato dall'arresto di Torino guardi assolutamente no le dimostra il fatto che schizzò in piedi con un'energia che per un uomo di 70 anni è veramente singolare e aveva paura in quel momento e mi accompagnò rapidamente alla porta lei della restaurazione di un sistema tangentizio in tutta Italia con la costruzione di due società all'estero gestite da Ciancimino a me non me ne parlò ne parlò a De Donno penso avvocato non scantoniamo fuori dagli argomenti per cortesia ha terminato? ha terminato? si ho terminato la ringrazio chi prende la parola? si difesa Vincenzo Ferro avvocato Traversi io vorrei capire una cosa generale ma Ciancimino ha dato o non ha dato un contributo per l'arresto di Rine? questa è la domanda? si non ha dato perché la vicenda relativa all'arresto di Rine è tutt'affatto diverso se vuole il mio parere personale ma ripeto è un personale parere se fosse continuata il nostro rapporto ci avrebbe messo in condizione di fare un'indagine seria per arrivare alla cattura di Rine perché lo strumento era serio cioè il terlocutore di Ciancimino era Cina che era il medico di Rine però per la vicenda che riguarda l'arresto di Rine non c'entra nulla mi scusi i testi sono stati indicati dal pubblico ministero su un preciso argomento è inutile che cerchiamo di fare domande su altre cose che non ci riguardano era un chiarimento su una cosa che ha detto prima questi chiarimenti non ci interessano spiego subito da dove nasce questa domanda e la seconda e ultima domanda che gli faccio come ha parlato prima di mappe dell'Enel dell'acqua che Ciancimino specificamente chiese con riferimento a una zona di Palermo lei ha capito a cosa dovevano servire queste mappe sono state poi utilizzate le mappe non sono state utilizzate sono la disponibilità della procura della Repubblica di Palermo certamente la zona è molto ampia ed è anche comprensiva delle località che sono state diciamo protagoniste della cattura cioè erano nella zona dove poi in effetti stava se lei conosce Palermo viale della regione siciliana verso Monreale tutta la zona di mezzo Monreale volevo capire solo perché mappe dell'Enel e dell'acqua lui non lo spiegò almeno a me personalmente io ritengo che lui attraverso le mappe dettagliate di acqua luce e gas potesse arrivare a farci a indicarci qualche spunto che portava all'abitazione di Riva almeno questa era nella sua testa penso che fu e noi perlomeno l'abbiamo interpretato io l'ho interpretata così che poi in effetti risulta nella zona compresa da quelle mappe si vabbè ma le ho detto che mi scusi l'avvocato devo togliere la parola non può continuare a insistere su questo argomento ma l'ha già disposto la domanda non ho altre domande non ho altre domande infatti non ho mica fatto altre domande sull'argomento che è stato introdotto dalla richiesta del pubblico ministero si presidente grazie l'avvocato c'è un ferro dunque generale vorrei ricostruire partendo dalla sua affermazione circa la diversità dei tempi tra l'oggi quando si celebra questo processo e 5-6 anni fa allora le chiede ho capito bene che dopo la strage di Capaci mi fu l'attivazione la più diffusa possibile prima di tutto della rete informativa dell'arma rimaniamo al contesto siciliano la domanda è distinguendo tra attività informativa e attività investigativa stamani noi qui abbiamo parlato le chiedo se abbiamo parlato di attività informativa prima di tutto posso rispondere a tutti questi allora guardi la distinzione in un reparto come il mio ma non solo il mio il mio è Ross ma c'è lo SCO per la Polizia di Stato o altri reparti distinguere la fase dell'attività informativa da quella investigativa è solo così un'espressione di carattere concettuale ma non pratico nel senso che la ringrazio perché non ci stavamo domandando da dove si ricava questa differenza perché sono pure parole vuote credo che nell'attività ci sia sempre investigato se c'è un reato prima se no c'è informazione ma il test tecnico ha dato una risposta allora il test tecnico ci dice su mia domanda se la corte la ammette dunque come si riscontra quella continuità tra generale sobrani loggi generale mori loggi capitano dedonno nella vicenda ciancina quando anzitutto il generale sobrani all'epoca maggiore esercita il comando a palermo rispondo non ho capito bene alla domanda io le posso dire le posso fare la cronestoria delle vicende relative alla professione del generale sobrani sobrani no non ci interessa mi scusi non hai mancanza di riguardo né per lei né tantomeno per il generale ma ai fini del nostro esame non ha nessunissimo interesse a me interessa a me interessa che a lei interessa se mi fa dire che cosa presidente alla corte ho detto che non interessa chi può dare tutte le spiegazioni che vuole non torno indietro passi avanti la domanda mi scusi è un'altra domanda ecco la domanda è vorrei capire come nasce il rapporto tra ciancimino la famiglia ciancimino e gli investigatori che ci ha rammentato prima il subrani e poi il detorno è facile rispondere questo ciancimino il rapporto tra ciancimino tra virgolette ciancimino subrani nasce dal fatto che ciancimino era un uomo politico regionale tra l'altro è stato sindaco della città di Palermo e subrani ha sviluppato buona parte come ho già detto della sua attività professionale comandando una compagnia la Palermo San Lorenzo è il nucleo investigativo prima come vice comandante del colonnello russo il vice di russo poi come comandante alla morte del colonnello russo quindi per forza di cose si sono incontrati a Palermo Palermo non è un continente quindi ci si incontra successivamente perché De Donno e Mori si imbattono in ciancimino perché De Donno sviluppando un'indagine sugli appalti relativa alla manutenzione strade e alla manutenzione di edifici scolastici di Palermo trova elementi sufficienti per chiedere l'ordinanza di custodia cadolaria nei confronti di Ciancimino più altri che vengono arrestati su ordinanza del GIP di Palermo dopodiché il resto l'ho raccontato e questo le chiedo in quanto lei ci ha detto che in quel momento era difficile avere un filo da seguire io ho fatto mente locale e le chiedo la collaborazione di Gaspare Musolo che si verificò proprio in quel momento prima della vicenda Borsellino triste vicenda Borsellino non poteva essere un filo molto più credibile e investigativo perché già noto provocato lei ha sempre la presunzione di insegnare ai tecnici che cosa avrebbero dovuto fare Presidente io non ho nessuna presunzione se non quella di voler fare il mio lavoro lei è stato mai ufficiale di PG no allora non le pare un tantino presuntuoso chiedere a un generale che credo abbia alcuni anni di attività alle sue spalle se non era il caso di seguire una strada diversa da quella che ha seguito prosegua pure nella sua domanda la questione c'era la collaborazione di Mutulo appena nata questa collaborazione è probabile che le due cose abbiano potuto avere il loro seguito senza che una interferisca nell'altra ho capito ma volevo una risposta generale peraltro la gestione di Mutulo origina da un altro organo investigativo quindi io non avevo titolo di inserirmi in quel contesto di indagini io cercavo delle mie fonti informative e le ho trovate attraverso quell'altra via beh no siccome aveva detto avvocato non commenti prosegua ad un'altra domanda va bene ma la cattura divina attenzione che non ci riguarda presidente io non sono in grado di fare serenamente ma è una cosa che proprio non mi crea nessun problema il problema di diritto di difesa ovviamente che il tema è la trattativa o quel contatto che il generale Mori con il capitano De Donno hanno condotto a un certo fine che è finito è iniziato in un certo periodo è finito in un altro momento pochi mesi dopo non ha niente a che fare con la cattura di Rina che a noi per di più non ci riguarda sotto nessun aspetto posso almeno articolare la domanda perché io non chiedo ho già capito lei ha parlato la cattura di Rina argomento che non ci interessa non continuiamo perché se no le tolgo la parola e passiamo ad altra cosa è un problema di diritto di difesa presidente io sono certamente avvocato ma è anche un problema di stare alle regole del processo il test è stato sentito una prima volta su un certo tema avete potuto fare tutte le domande che dovevano a questo punto è stato reintrodotto per un altro tema la cattura di Rina non compare nei più piccoli particolari di questa vicenda non ha nessun legame con questa vicenda ma io non voglio chiedere come è stato catturato Rina io vorrei chiedere siccome lei ha la qualità della insistenza perché poi alla fine dice mi esaspera allora per non fare una scena le cedo la parola ma stavolta le ho detto lei cambia domanda perché questa non gliela ammetto ma non l'ho nemmeno articolata presidente questo è il punto lei potrà impugnare tutto quello che crede io sono lieto se lo gli farà perché così con tutta serenità la domanda si cambia qual era l'oggetto della trattativa con Ciancimino ecco allora questa si può fare penso di avere compiutamente già risposto comunque sinteticamente quando qui ognuno ha l'intenzione di interrogare come se in precedenza il test non ne avesse mai detto niente preciso che noi volevamo conoscere in senso lato quando iniziamo il contatto tutto quello che ce ne veniva andava bene nel senso che erano se riuscivamo a ottenere elementi che ci potessero sviluppare le nostre indagini e portarle più avanti per cui eravamo come così materia plastica che doveva essere formata da quello che andava dicendo Cercimino l'orientamento però finale qual era arrivare alla cattura di qualche d'uno questo è il concetto allora le chiedo la cattura di questo qualche d'uno che abbiamo capito essere il Rina Salvatore ma non necessariamente non solo lui altri latitanti già individuati e ricercati benissimo noi oggi stiamo facendo un processo per strage avvenute dopo la cattura di Rina appunto ecco allora io le chiedo questa cattura però non ha risolto il problema le stragi ci sono state lo stesso la sua attività info-investigativa dove conduce su questo problema di questo processo guardi che lei può anche non rispondere questa è proprio una di quelle espressioni che non so qualificare perché diversamente e mi dispiace altre volte ho fatto delle qualificazioni che non dovevo fare avvocato per cortesia non ponga delle domande che si sono già una risposta sappiamo tutti che questa attività ha tentato di raggiungere un risultato ha raggiunto quello che poteva non ha niente a che fare con le nostre strage passiamo a domanda rimane il generale il generale non era la mafia non era la mafia in ginocchio era lo Stato con i suoi organi investigativi e giudiziari che era in ginocchio perché eravamo veramente ciechi sordi e muti quindi non si poteva andare con gli attanzi la cercimina di dire adesso parla lo potremmo fare adesso perché adesso è la cosa nostra che è in ginocchio è lo Stato che vince questa è la differenza le chiedo la vicenda Bellini di cui abbiamo già parlato e ne ha già offerto la sua versione della conoscenza dei fatti rimane completamente disgiunta però forse non conosce che un particolare che ci ha portato il maresciallo Tempesta il maresciallo Tempesta ebbe a dire sentito il 7 giugno prima di lei ma ho riletto i verbali non le fu contestato ecco ora che lei è rappresentato perlomeno ora che lei qui le dico il maresciallo Tempesta oltre a dare una data diversa come prima le diceva il pubblico ministero però disse che lei le avrebbe parlato il capitano ultimo quale elemento da interessare alla trattativa da condursi con Bellini ecco scusi avvocato ma si è reso conto che questo è un argomento che non ha a che fare con il tema di cui ci siamo senti io non so stamattina se non lo so che io se abbia come dire un particolare fluido negativo e un fronte della corte ma la stessa domanda l'ha fatta il pubblico ministero non ha fatto la domanda sul capitano ultimo ma della vicenda Bellini ha parlato assolutamente la domanda del pubblico ministero mi dava a vedere se per caso all'epoca in cui il generale qui presente ebbe colloquio 1 con il maresciallo Tempesta quanto dal Tempesta era stato rappresentato lei pensò che potesse essere inserito nello stesso filone di il generale ha risposto gli ho considerate due cose totalmente indipendenti l'una dall'altra e ha anche aggiunto con molta sincerità potrei anche avere fatto un errore ma io così mi sono tenuto mi pare che così si tratta quindi quello che lei chiede ora è un'altra cosa appartiene a un tema di indagine che abbiamo già sviluppato e esaurito per cortesia non mi concludendo il generale Mori mi è parso di capire e vorrei un chiarimento su solo ulteriori due circostanze lei ha affermato che Ciancimino rispetto al vostro procedere bruciò i tempi lei ha detto si presentò pronto prima di quello che pensavamo ecco vorrei capire bene il perché di questa affermazione perché non avevate ancora qualcosa di preciso da offrire no no assolutamente no io pensavo ritengo di averlo espresso questo concetto che Ciancimino avrebbe tirato alla lunga questa trattativa per vedere in effetti di noi che cosa gli potevamo offrire come persona non come soggetto inserito in un'organizzazione cioè ai suoi fini l'avrebbe tirata lunga perché non ritenevo che fosse in condizione o che voleste prendere contatto con la cosa nostra per cui io ritenevo che invece lui cercasse di sbocconcellarci il pane della sua sapienza di fatti di cose che potevano interessarci su altri settori cioè imprenditoria mafiosa appalti polemiche relative vicende giudiziarie relative al comune di Palermo ecco questo è il settore dove io pensavo che lui andasse a finire e quindi rimasi sorpreso invece dall'indirizzo che lui ebbe a dare al l'ultima domanda è se allora ho sempre capito bene preso nota esattamente del fatto che un documento che qui si è nominato da parte di altre fonti ovviamente come papello papiello pezzo di carta eccetera è mai passato per le sue mani come proveniente da esponenti di cosa nostra ed è stato comunque oggetto di questa trattativa non solo è mai passato per le mie mani perché altrimenti sarebbe agli atti in qualche procura ma non se ne è mai neanche parlato in nessuna maniera nel rapporto tra me e Ciancimino mi pare che l'avesse già anche chiaramente abbiamo altre domande una sola sollecitata mi perdoni generale dalla lettura del verbale che le ha resa al pieno la bozza del libro di Ciancimino che lei ricevette può dirci se poi è stata osservata o meno io l'ho buttata via ma non ce ne sono altre per esempio una c'era il dottor Caselli pensa che anche lui l'avrà buttata via non ho domande ci sono altre domande per questo test può andare generale grazie buongiorno grazie a tutti grazie a tutti